Buonasera a tutti, sono Marcella Beccaria, ho avuto il piacere di curare la mostra a cuore di tenebra ed è nella cornice della mostra attualmente allestita qui alle OGR che ho l'onore di introdurvi il professor Cardini che ringraziamo per aver trovato un posto per noi all'interno della sua fittissima schedule. Direi che come prima cosa appunto desidero leggervi brevemente una biografia del professore perché credo senza tema di essere smentita che sia il più grande esperto vivente sulla storia delle crociate e quindi è davvero un grande onore oggi avere il suo punto di vista sul racconto tanto complesso e che come ben sappiamo tanto ha formato e forse deformato chissà quella che è la storia culturale dell'Occidente e non solo. Il professor Cardini è professore merito presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane, membro del Consiglio Scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino è inoltre accademico onorario dell'Accademia Internazionale Medicea, membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e dal 2007 direttore del Centro di Studi sulle Arti e le Culture dell'Oriente dell'Università Internazionale dell'Arte di Firenze. Laureato sia pieni voti all'Università di Firenze discutendo una tesi in storia medievale con il professore Ernesto Sestan, ha insegnato storia medievale nella medesima università dal 1971 e nel 76 è diventato Fellow della Harvard University Bernard Berenson Foundation. Professore straordinario di storia medievale all'Università di Bari dall'85 all'89, ottiene in quest'ultimo anno la cattedra in storia medievale a Firenze. Nel 1991 diviene directeur de recherche presso l'Ecole des Attitudes di Parigi. Tra l'Università Estere nelle quali ha insegnato compaiono l'Université Paris, il Max Planck Institut für Geschichte a Göttingen, l'Università di Alcalá in Spagna e la Freie Universität di Berlino. È stato membro del Consiglio di Amministrazione della RAI, è socio di numerose organizzazioni scientifiche italiane e straniere e ha ottenuto molti riconoscimenti per i suoi studi accademici, tra i quali l'elezione ad accademico ordinario dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. È stato direttore editoriale del mensile della Fondazione Federico II di Palermo, l'Euromediterraneo, fondatore della rivista Percorsi, collabora con il quotidiano Avvenire, il Sole 24 Ore, il Tempo, il Mattino, la Gazzetta del Mezzogiorno e dal 2012 è entrato a far parte del Comitato Scientifico della rivista Eurasia. Numerosissimi sono i riconoscimenti assegnati nel campo storico letterario, come ad esempio nel 2001 il Premio Europeo Lorenzo il Magnifico, Accademia Medicea Internazionale, nel 2004 il Premio Ernest Hemingway, nel 2007 il Premio Scanno, nel 2008 il Premio Nazionale di Cultura nel Giornalismo e la Penna d'Oro e il Premio Mozart nel 2008. Le sue ricerche riguardano soprattutto la storia delle crociate e dei pellegrinaggi, nonché quella dei rapporti tra cristianità medievale e mondo musulmano. Negli anni, anche sollecitato dai recenti avvenimenti, ha ampliato la sua area di studi ai rapporti fra mondo occidentale e mondo musulmano, anche nell'età moderna e contemporanea. Le sue pubblicazioni sono centinaia, ne citeremo solo alcune, dalle crociate tra il mito e la storia, Roma, Civitaso 71, Barbarossa, Vita, Trionfi e Illusioni di Federico I Imperatore, Gerusalemme, la Terra Santa e l'Europa, Noi e l'Islam, le crociate e la storia e il tremmito, le crociate, l'invenzione dell'Occidente, il turco a Vienna, storia del grande assedio, fino ai più recenti incontri e scontri nel Mediterraneo e il sultano Elozar, pubblicato nel 2018. Questa sera il professore ha accettato questo invito per fare questo incontro sul tema della crociata, una balena bianca nella storia dell'Occidente e, come dicevo prima, l'invito è nella cornice della mostra Cuore di Tenebra, che, come sapete, è una mostra che nasce guardando al lavoro di molti artisti contemporanei e i modi in cui gli artisti contemporanei oggi si interrogano su questo complesso presente nel quale viviamo, sulla tanta violenza, sulle continue guerre, sulle diseguaglianze che continuano a caratterizzare il nostro mondo. E sono artisti che spaziano da riferimenti che vanno dalla caduta di Ninive con Roberto Cuoghi fino ai futuribili scenari di Pedro Neves Marquez, che è un artista che ha prodotto un video dedicato alle possibili aspetti dell'intelligenza artificiale nel prossimo futuro. E tra le opere in mostra, in particolare, c'è anche un film di Walshawki, che è questo artista di origine egiziano, che è un artista che intenzionalmente ha guardato alla storia delle crociate, spingendosi indietro nel tempo, in realtà, anche a momenti precedenti, come ad esempio la battaglia di Karbala, scusate, perché è un artista che intenzionalmente parla chiaramente del presente, ma ha deciso di farlo appunto riferendosi al passato e guardando ad esempio nel suo caso al modo in cui la storiografia araba ha lasciato chiaramente importanti e numerose testimonianze su questo momento di incontro, scontro tra l'Oriente e l'Occidente e quindi Wael ha deciso di fare una serie di film appunto attingendo alle fonti arabe anziché alle fonti chiaramente occidentali, che sono per lui, come dire, una sorta di terra aliena e differente. Quindi abbiamo pensato che, visti chiaramente quelle che continuano a essere anche le notizie che leggiamo sui giornali e quelle che sono le tensioni del nostro mondo contemporaneo, potesse essere interessante iniziare il public program, quale alle OGR, dedicato alla mostra, chiamando appunto il professor Cardini per raccontarci il suo punto di vista su una storia chiaramente così complessa e al tempo stesso così affascinante. Io vi ringrazio. Grazie, professore. Grazie, buon pomeriggio, buona domenica. Mi dispiace di contribuire all'orovina di un pomeriggio domenicale, costringendovi, beh, costringendovi fino a un certo punto, naturalmente siete volontariamente costretti a star qui anche per un periodo che almeno nelle intenzioni degli organizzatori è piuttosto lungo, perché pare che la curva e l'attenzione, come sapete, non regga oltre 45 minuti, noi abbiamo a disposizione due ore. È vero che non è detto che le dobbiamo sfruttare del tutto, possiamo terminare tranquillamente prima. Penso ci sarà tempo per uno scambio di idee, ammesso che alcuni di voi ci vogliano partecipare, o sollecitati da quello che io dirò, oppure perché hanno a loro volta idee, curiosità, posizioni da esporre, eccetera. A quello che è stato detto, al fin troppo, francamente è stato detto, d'altra parte io ormai sto sfiorando l'ottantesimo anno d'età, per cui è ovvio che negli anni precedenti ho ben dovuto fare qualcosa, insomma è un lasso di tempo piuttosto lungo, e quindi ho accumulato alcune cose, almeno quantitativamente sulla qualità, io preferirei stendere un velo, ma insomma non sta a me discutere su questo. vorrei soltanto precisare, per dovere d'ufficio, senza nessuna falsa modestia, o al contrario, iattanza sostanziale, precisare che io, in quanto professore ordinario dell'Istituto di Scienze Umane, che oggi si chiama Istituto di Scienze Umane Sociali, ed è una sezione della Scuola Normale Superiore di Pisa, io soltanto a quel titolo, io sono professore emerito, perché vuol dire che sono pensionato, della Scuola Normale Superiore, io non ho insegnato alla Scuola Normale Superiore, salvo, sì, qualche piccola cosa, ma insomma ci sono, in quanto sono nei suoi ruoli paga come pensionato, e spero di rimanerci, nel senso che, visto i tempi che corrono, spero che almeno a chi ha già una pensione in atto non gli venga tolta, chi non ce l'ha ancora, su questo sospenderei il giudizio, perché come sapete i tempi sono incerti. Bene, la crociata, questa balena bianca nella storia dell'Occidente, è evidente che la scelta del titolo, che è come tutti i titoli, un po' o vorrebbe essere ad effetto, può riprendere un po' il discorso del titolo generale di questa occasione, di questa manifestazione, visto che il titolo è Conradiano, un cuore di tenebra, voi sapete tutti i rapporti che sono stati istituiti dagli storici e la letteratura, che del resto ci sono obiettivamente anche rapporti tipologici fra l'opera di Conrad e l'opera di Melville, io ho scelto per questa chiacchierata un titolo melvigliano sulla balena bianca della storia occidentale. Balena bianca perché? Anche un po' per il suo carattere pauroso, in realtà per certi aspetti anche funebre, ma perché la crociata è una guerra, è una guerra di religione, le guerre di religione godono cattiva stampa, in generale, nella storia occidentale, d'altra parte l'Occidente si distingue per questa caratteristica dicotomia, voi vi ricorderete la dichiarazione di Mephistopheles nel primo atto del Fausto di Goethe, io sono lo spirito che nega incessantemente, che vuole sempre il male e opera sempre il bene, almeno questo è quello che Mephistopheles dice di se stesso. Nell'Occidente si potrebbe quasi dire il contrario, con un tantino forse di esercizio autocritico su noi stessi o di cattiveria, che l'Occidente è pieno di buone intenzioni, come la via dell'inferno è la stricata di buone intenzioni, la pace, la libertà, i diritti dell'uomo, in realtà poi gli capita spessissimo di produrre esattamente il contrario, della pace, la libertà, i diritti dell'uomo. È un mistero, se si vuole, o una contraddizione forse anche feconda, storicamente senza dubbio lo è, perché è uno dei temi che affascina di più in questo momento alcuni studiosi, proprio a proposito della necessità che ormai sentiamo di fare una storia globale, e ormai ci rendiamo conto che in un'Europa, in un'Occidente, che potrebbe essere al tramonto del suo ciclo egemonico, che non vuol dire che la cultura occidentale sia al tramonto, no, no, la cultura occidentale ormai è diventata la coine di Alectos, o se preferite il basic English di tutto il mondo, soprattutto delle classi dirigenti, delle élite dirigenti, e quindi continuerà a camminare, probabilmente non più sulle gambe di gente che è etnicamente e geostoricamente occidentale, ma con le gambe di altri, che magari saranno cinesi, o saranno arabi, o saranno qualche cos'altro. Noi ci stiamo abbastanza adattando a quest'idea, e quindi all'idea che quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male, non scomparirà, ma sarà sviluppato in un altro modo da altri. E la crociata, fino ad oggi, è stata una sorta, se volete, di cattiva coscienza dell'Occidente, ma non è detto, non è detto perché la crociata è stata anche in certi periodi, non ultimo il presente, oggetto invece di valutazioni profondamente positive. Però cosa voglio dire quando dico valutazioni positive? Valutazioni positive della crociata in sé, beh, questo non lo so, anche perché quando si parla di questi temi si dovrebbe sempre distinguere tra quello che ne pensa una minoranza, che è la minoranza degli addetti ai lavori, che quindi per definizione dovrebbe essere abbastanza competenti, ma che d'altra parte hanno difficoltà a trasmettere la loro competenza. nel senso che quando un addetto ai lavori, uso volontariamente un po' questa espressione un po' così artigianale, quando un addetto ai lavori deve parlare del suo lavoro a gente che non lo conosce o che lo conosce molto poco o che lo conosce superficialmente, beh, insomma, o si autocondanna alla fasia pubblica e sceglie di parlare solo con gli altri specialisti e va anche bene. Molti studiosi lo fanno, nel loro diritto, oppure se vuol comunicare qualcosa per forza di cose deve tradurre il suo sapere in termini che siano accettabili a un livello di cultura più ampia. E come sapete, nella traduzione c'è sempre un rischio di tradimento, in un modo o nell'altro. sulla divulgazione c'è una polemica in atto che non finirà mai, certamente oggi il parere generale diciamo degli uomini e delle donne di cultura è più favorevole al modello, alla dimensione della divulgazione di quanto non fosse un tempo, perché un tempo, insomma, chi amava la divulgazione storica la consumava, c'erano dei canali per farlo e non entrava in discussioni con chi invece amando la storia come scienza era portato piuttosto a svalutare la divulgazione. Oggi c'è un dibattito invece dove si tende a riconoscere il valore se non altro alla divulgazione come contributo alla coscienza civile. e quindi la ricerca relativa al passato come contributo alla nostra coscienza di cittadini il che è un discorso molto affascinante molto interessante forse anche diciamolo pure molto giusto però difficile nella realtà delle cose perché i livelli della divulgazione sono molti e sono ardui a essere scelti e spiegati a essere messi a disposizione di chi poi fruisce nella divulgazione storica ne fruisce ma ha difficoltà a poter decidere autonomamente del livello a cui fruirne e quindi naturalmente in uno stato così di situazione ambigua molto spesso succede nella cultura storica quello che succede in economia in economia si dice la moneta cattiva scaccia la moneta buona nella cultura storica probabilmente succede un po' lo stesso ci sono molti modi di fare divulgazione io con altri colleghi siamo un po' impegnati in una rubrica della in una trasmissione della della RAI della radio televisione pubblica o che tale dovrebbe essere entro certi limiti almeno formalmente lo è e ci chiediamo sempre se il nostro modo di fare divulgazione è al meglio oppure se lo si potrebbe fare meglio ma se lo si potrebbe fare meglio qualitativamente ci chiediamo se i risultati potrebbero essere altrettanto fruiti e apprezzati da tutti perché il far meglio divulgazione significa per concessione quasi unanime fare una divulgazione più vicino possibile alla alla storia come scienza e la divulgazione dovrebbe essere questo dovrebbe essere un filo diretto dalla conoscenza storica alla conoscenza più ampia e qui la crociata è un po' protagonista nel bene nel male proprio perché è una dimensione della storia si può dire tipicamente occidentale sì lo dirò con beneficio di inventario però non mi addentrerò poi nella discussione tendente a capire fino a che punto sia veramente una dimensione che potrebbe anche non essere soltanto occidentale perché il discorso ci porterebbe lontano ben oltre le due ore stabilite ma ci obbligherebbe a disperdersi in un'infinità di rivoli quindi il problema della crociata è che esiste come sapete un tipo di conoscenza molto diffusa della crociata la crociata è un argomento di studi fino dalla scuola media se non dalla scuola elementare è una dimensione per certi versi anche semplice e popolare è la guerra tra cristiani e musulmani che poi si può essere articolata anche in altri modi può essere rimersa a livello analogico trasferendosi da una guerra di religione a una guerra magari tra differenti ideologie e poi guerra di religione è stata guerra di religione ma la crociata non è una guerra missionaria la crociata non è una guerra in cui un gruppo religioso tende a soverchiarne o addirittura a cancellarne un altro ci sono state guerre in questo senso europei guerre di religione fra 500 e 600 soprattutto ne abbiamo fatte terribili una spaventosa fra 1618 e 1648 alla fine di quella siamo usciti inorriditi noi per primi e con i patti di Westfalia abbiamo stabilito che mai più si sarebbero fatte guerre fra cristiani perché nel 1648 l'Europa poteva ancora parlare di se stessa come cristianità poi si può discutere se lo era ancora ma certamente si autoreppresentava come tale e come sapete nel 1648 con le pace di Westfalia che a mio avviso rientrano a buon diritto nella storia delle crociate e che si stabilisce il principio di tolleranza che per essere presentato adeguatamente dovrebbe essere presentato in latino con le parole del protocollo delle pace di Westfalia che lo introducono come mutua intercristiano stoleranzia cioè alla fine di questo macello tremendo durato 30 anni in cui era successo tutto il contrario di tutto perché c'era dentro anche la grande epidemia di peste del 1630 quindi una carneficina mai vista un'Europa uscita a brandelli che non è uscito a brandelli soltanto l'impero spagnolo certo che le pace di Westfalia sono state un po' la celebrazione del funerale della monarchia di Spagna che poi è continuata come monarchia e anche come impero universale ma ormai il suo tempo egemonico era finito aveva trasferito il testimone decisamente all'altro grande impero nautico all'altro Leviathan come avrebbe detto Carlo Schmitt cioè all'Inghilterra aveva perso la corsa con l'Inghilterra però naturalmente rimaneva uno dei pilastri sia pur inclinato e periclitante della cristianità e a Westfalia si stabilisce che mai più si faranno guerre fra cristiani e che dovrà avvicere tra cristiani una mutua toleranzia inter cristiano smutua toleranzia e che vuol dire è sottinteso e qui sì che la crociata c'entra con i non cristiani la guerra magari si può anche fare in che modo si può fare una guerra implicita fatta magari di leggi e di interdizioni per i non cristiani che vivono fra noi allusione naturalmente soprattutto alle comunità ebraiche oppure si può fare una guerra di affrontamento e quella era vivissima nel 1648 una delle ragioni per cui le potenze cristiane e segnatamente soprattutto la Spagna l'impero la Francia l'Inghilterra decidono di smettere di farsi la guerra tra loro è che c'è un nemico esterno non un adversario ma un inimicus che li minaccia ed è l'impero ottomano e l'impero ottomano è sentito fondamentalmente come Islam ecco un'altra delle contraddizioni che bisogna tener presenti a livello preliminare quando si parla di crociata come guerra e ci si chiede se la crociata è stata una guerra di religione la risposta è secondo me no ma la domanda è legittima il turco cioè l'impero sultaniale ottomano sentito come il nemico e qui dall'antemurale balcanico fino al Mediterraneo che l'impero ottomano minacciasse l'Europa e non ne fosse in fondo minacciata non perché l'Europa fosse più pacifica e l'impero ottomano ma semplicemente perché l'impero ottomano aveva come dire la possibilità di decidere lui se e quando attaccare e chi attaccare tutti sanno almeno quelli che hanno un po' più fresche le memorie liceali sanno che l'impero ottomano nel mondo cristiano aveva i suoi alleati soprattutto uno fedelissimo e costante il re di Francia e qui c'entra un discorso di carattere geopolitico e geostorico nella scacchiera del mondo euro asio afro mediterraneo siccome gli amici degli amici sono amici gli amici dei nemici sono nemici è evidente che avendo la Francia due nemici fondamentali la Spagna e l'impero romano germanico tra cui era stretta e anche un nemico intermittente l'Inghilterra è evidente che la Francia si guardava intorno e cercava degli alleati fra i nemici dell'impero spagnolo dell'impero romano germanico e ne trovava fondamentalmente uno formidabile che era l'impero ottomano e si è sviluppata tra 5 e 600 tra Francesco I e Luigi XIV detto il re sole facciamo pure i nomi un'intensa amicizia e collaborazione qualche volta anche militare sia pure non dichiarata con l'impero ottomano ma però il re di Francia è il re cristianissimo come si può accettare che il re cristianissimo appoggi che fra l'altro pretende una primogenitura delle crociate e questa è una pretesa che la cultura francese rivendica a sé fino dal medioevo come si può pensare che il re cristianissimo si allei col principale nemico della croce con la mezzaluna ottomana ma è perché la mezzaluna ottomana non esaurisce l'islam c'è almeno un'altra grande potenza musulmana che è l'impero degli Shasafavidi di Persia e come vedete certe linee geopolitiche o geostoriche riaffiorano continuamente e la Persia è il grande nemico orientale del turco del sultano e quindi al nemico orientale del sultano guardano con simpatia tutte le potenze europee che si sentono minacciate dal turco ma che sono anche nemiche della Francia quindi ci sono rapporti strettissimi tra gli Shah persiani e l'impero romano-germanico tra gli Shah persiani e anche la Repubblica di Venezia che però segue una politica un po' più ambigua rapporti strettissimi tra l'impero persiano e il re di Spagna è un'idea che forse tra l'impero romano-germanico e lo Shah di Persia si potrebbe fare una crociata comune per distruggere prendendolo stringendola come in una morsa nord-ovest da una parte sud-est dall'altro per distruggere l'impero ottomano tutto questo lo dico molto saltando un pochino passaggi cronologici e poi cercherò di recuperare per mettervi anche un po' a vostro a vostro agio perché un discorso sulla crociata tutti si aspettano che cominci non dico proprio dall'appello di Clermont Ferran del 1095 oppure dalla presa di Gerusalemme da parte dei crociati del 1099 che poi ci rimanda immediatamente a Torquato Tasso però attenzione perché Torquato Tasso quando scriveva la Gerusalemme liberata faceva la storia poetica della prima crociata e la faceva anche bene il Tasso è allievo del Sigonio quindi è un poeta dotto è un poeta che conosce la storia che ama la storia non si può dire lo stesso per esempio dell'Ariosto le sensibilità in questo senso sono diversissime però certamente quando Tasso parla della prima crociata e di Goffredo di Buglione eccetera parla sì della prima crociata ma pensa alla battaglia di Lepanto pensa all'antemurale contro i Turchi quando il Tasso è tra Ferrara e Venezia e ha i suoi problemi anche ormai di squilibrio spirituale se non psicofisico uno dei suoi grandi crucci è il fatto che i pirati barbareschi formalmente sudditi del sultano di Istanbul in realtà sono corsari magrebini hanno assalito la sua sorrento sono quasi penetrati nella sua casa e quindi questa crociata che Tasso è abituato a trattare da lontano parlando cose accadute quanto secoli prima di lui lui se la trova d'altra parte sotto casa è quasi fra i piedi sotto forma di una necessaria misura che oggi nel presente e nell'attualità servirebbe a salvare la sua casa la sua famiglia i suoi cari attraverso un respingimento dell'impero ottomano che è evidentemente il rappresentante per la cristianità europea dell'Islam è anche così che bisogna guardare a questo fenomeno è un fenomeno che noi fra l'altro chiamiamo con una parola crociata che è istintivamente chiara che è nata come una cosa senza una parola guardate allora il nostro no torniamo torniamo indietro per vedere ecco alla vostra destra alla nostra anzi perché anche per me lo stesso alla nostra destra in basso voi vedete una figurina sopra una croce che più o meno potrebbe essere quella templare non sappiamo bene come fosse ma ci sono alcune fonti che ci dicono come era disegnata una croce templare e quella che è più famosa e più affidabile è la retrofacciata sono gli affreschi della retrofacciata di una chiesa del tardo la chiesa di San Bevegnate a Perugia dove ci sono una serie di affreschi perché la chiesa ancora nella fine del 200 era ancora una chiesa templare e lì naturalmente i templari avevano nel loro statuto un divieto assoluto di dipingere le chiese di usare vetrate policrome di usare smalti di usare metalli preziosi e anche il divieto di dipingere e di raffigurare esseri viventi che non dipendeva da nessun lo dico perché qualcuno ha avanzato un'ipotesi del genere non dipendeva da alcuna suggestione musulmana ma dipendeva semplicemente da una adesione dei templari a quello che era la regola da cui usciva il loro difensore spirituale Bernardo di Crevaux cistercense perché è nella regola cistercense che ogni forma di arredo ogni forma di ornamento di arricchimento viene proibita sia negli abiti sia nei tessuti l'abito cistercense è fatto di tela grezza quindi non tinta è solo impropriamente che si chiamano che sono stati definiti monaci bianchi perché in realtà non sono monaci bianchi sono somai monaci grigi del colore della fibra non tinta e qualsiasi ornamento è proibito i templari riprendono nel nome appunto del loro voto di povertà questo dettame di povertà assoluta dall'ordine del tempio però lo trasgrediscono evidentemente tanto è vero che alla fine del 200 noi abbiamo questa chiesa di Samba e Vignate purtroppo ormai soltanto gli affreschi della controfacciata sono stati salvati ma che doveva essere tutta piena di affreschi e lì abbiamo anche se i colori sono sono stati alterati col tempo quello che lì vedete come un nero-blu dovrebbe essere in realtà un rosso e da lì noi vediamo alcune cose vediamo anche per esempio che il templare secondo la regola di Bernardo porta la barba lunga e porta quello non lo vediamo perché questo è un calza un ilmo porta anche i capelli rasati a zero praticamente quindi l'immagine del templare del tredicesimo secolo e anche il dodicesimo secolo doveva somigliare molto da vicino all'atteggiamento e all'acconciatura che è molto comune tra alcuni gruppi fondamentalisti musulmani di oggi e le due cose non hanno naturalmente un rapporto diretto ma nascono da una tipologia molto simile la barba lunga e fluente e fino dall'età romana è un segno preciso vuol dire che chi la porta è in viaggio legionari romani potevano farsi crescere la barba ma soltanto quando erano in campagna militare altrimenti se la dovevano tagliare e molti imperatori almeno a partire dal secondo secolo dopo Cristo hanno portato la barba lunga come del resto faceva Federico Barbarossa nel dodicesimo secolo un altro secolo in cui la barba era mal vista in occidente era segno di grecità o di islam ma sono stati proprio i templari che l'hanno riportata perché adeguandosi a un uso che nel medioevo era l'uso dei pellegrini i pellegrini portavano la barba e la portavano in segno di penitenza nel senso di di quell'atteggiamento rispetto alla cura del corpo che è una maggior libertà dettata dalla necessità di non curare troppo il corpo stesso quindi fatto penitenziale Federico Barbarossa porta la barba da quando giovanissimo partecipa alla seconda crociata e la crociata e qui possiamo entrare cominciare a cercare di entrare un po' in media stress la crociata è un pellegrinaggio penitenziale questo vale per il dodicesimo secolo perché vale già a partire dalla fine dell'undicesimo la crociata nasce come pellegrinaggio penitenziale che in deroga ai pellegrinaggi ordinari si deve fare senza dubbio in povertà ma si deve fare armati perché il pellegrino nel suo statuto di penitente avrebbe avuto l'obbligo di non portare nemmeno armi al massimo per appoggiarsi durante il viaggio e anche per difendersi da eventuali cattivi incontri bestie feroci eccetera portava il bordone portava il bastone che era volendo un'arma vera e propria un'arma nemmeno tanto impropria perché era un bastone che finiva in una punta di ferro abbastanza acuminata e che serviva anche come difesa però era l'unica deroga permessa perché il pellegrino il pellegrino è un pauper il pauper non è soltanto un povero è uno che non ha difese tanto è vero che ha bisogno di un tutore ha bisogno di un advocatus ha bisogno di un defensor questo statutariamente per il diritto canonico il povero quindi è uno che non porta armi perché chi porta armi per definizione non può essere un povero con allusione che non sta tanto dalla parte del valore fisico valoriale materiale delle armi che era altissimo nei secoli fra undicesimo e dodicesimo secolo ma con un indirizzo che mira a una definizione canonica il povero è colui che ha bisogno degli altri che non può bastare a se stessi a se stesso e naturalmente la l'etica cavalleresca quando nasce nell'undicesimo secolo nasce essenzialmente come difesa dei pauperes e la crociata nasce come idea di una difesa dei pauperes che deve addirittura uscire dalla cristianità per andare a difendere i cristiani d'oriente voi vedete in questa bella miniatura che è una visione assolutamente simbolica di Gerusalemme Gerusalemme non è mai stata un cerchio perfetto attraversato da quattro strade in croce la visione è evidentemente simbolica e vi sono scritte che se noi avessimo più tempo e potessimo ingrandire l'immagine sarebbero scritte didatticamente molto precise che spiegano la simbolica di questa immagine alla base voi vedete di questo bel manoscritto è un manoscritto della Biblioteca Nazionale dell'AIA voi vedete due figurine che si combattono l'una attaccando e l'altra fuggendo beh la figura che attacca è probabilmente un cavaliere dell'ordine del Tempio quindi la croce rossa in Campio Bianco non è il simbolo come ancora oggi molti credono anche perché nei film americani è così non è il simbolo della crociata è semmai un segno che rimanda a una religio cioè a un ordine di tipo religioso non monastico ma in cui si vive si vive in comune un ordine di tipo religioso dove nel quale indeloga quello che fanno in generale gli ordini religiosi gli ordini monastici si può anzi si deve portare anche le armi è un'innovazione del XII secolo che sposta anche lo statuto del pellegrinaggio lo fa diventare qualche cosa qualche cosa di diverso e voi vedete che in questa questa immagine della biblioteca dell'AIA di questo manoscritto del primo XIII secolo noi abbiamo in sintesi tutto quello che è necessario e chissà perfino sufficiente per parlare della crociata non in generale non di questa sorta di balena bianca che ogni tanto riemerge soffia come dice Melville e poi torna ad immergersi ed è riemersa anche ultimamente quando si sono moltiplicati da parte di alcuni le invocazioni a una nuova crociata contro il nuovo pericolo islamico eccetera voi direte vabbè retorica propaganda propaganda giornalistica tutto quello che volete naturalmente però è interessante che si torni a questa anche a questa a questa parola che può sembrare arcaica che in parte lo è che per certi versi è anche una parola straordinariamente spuria mi toccherà fare una piccola un piccolo escursus anche di storico lessicologico molto banale molto impreciso sulla nascita e la fortuna di questa parola fortuna proprio nel senso filologico non fortuna nel senso di buona sorte e qui voi avete tutto avete Gerusalemme che è l'obiettivo della crociata e che è un obiettivo di pellegrinaggio avete una Gerusalemme che è la Gerusalemme reale quella che sta in Palestina o secondo la nomenclatura geografica medievale in Siria si sarebbe dovuto dire ed è ancora così anche secondo la nomenclatura araba Gerusalemme in quella parte del vicino oriente che gli arabi chiamano Hasham e che corrisponde alla antica area siriaca quella che anche i romani conoscevano come tale quindi non solo la Siria nel senso geopolitico attuale ma anche l'Iraq ma anche la Palestina praticamente e anche il Libano quindi la Siria in senso generale così che i romani usavano il termine Siria e che gli arabi usano ancora questo termine Hasham è la Siria storica non la Siria politica evidentemente una Gerusalemme che è una Gerusalemme mistica e non a caso quindi è una è una croce iscritta all'interno di un cerchio con una serie di riferimenti anche di tipo mistico che sono del resto facilmente comprensibili anche se andrebbe sarebbe necessario forse sarebbe anche interessante affrontarli bene analiticamente e poi nella fascia nel registro più basso lo scontro uno scontro armato uno scontro fra guerrieri che in fondo si somigliano qualcuno ha fatto dell'ironia su questo somigliarsi di questi guerrieri ma in fondo si è detto i guerrieri musulmani erano molto diversi dai guerrieri occidentali fino a un certo punto anche qui bisognerebbe fare un discorso abbastanza lungo perché parlando di crociata si parla anche di guerra ed è difficile parlare di guerra senza parlare di armi ma in realtà bisogna tenere presente che noi stiamo parlando di un Mediterraneo che è il Mediterraneo del XII secolo che è un Mediterraneo di un momento di straordinaria vivezza economico commerciale e questo penso lo sappiamo tutti è nell'ordine delle nostre conoscenze il tempo delle grandi repubbliche marinare le repubbliche marinare sono repubbliche guerriere come tutti sanno e come tali partecipano anche allo sforzo delle prime crociate almeno di quelle di quelle scolastiche che poi sono quelle della stagione un po' classica delle crociate però nello stesso tempo le repubbliche marinare sono anche repubbliche di mercanti e i mercanti comprano e vendono delle cose e qui siamo a una svolta importante della nostra civiltà in realtà non a caso la crociata viene posta da molti studiosi un po' all'inizio alle radici del tempo moderno è un medioevo all'interno di queste variazioni del medioevo che ci fanno un po' sentire non troppo a nostro agio quando parliamo del medioevo in generale questo soprattutto lo sentono molto i medievisti oggi c'è un dibattito molto forte anche molto interessante riguardo a questo fatto delle articolazioni all'interno di questo oggetto generale medioevo un oggetto che poi corrisponde tecnicamente e genericamente a un migliaio di anni dal quinto secolo fino al quindicesimo ma noi tutti sappiamo che in mille anni quei mille anni è successo tutto il contrario di tutto e allora oggi tendiamo a suddividere ad articolare a periodizzare è una cosa che facciamo da molto tempo da molto tempo si parla di un alto medioevo di un basso medioevo addirittura di un pieno medioevo come si chiama a dire nella cultura tedesca o di un tardo medioevo e si fanno delle suddivisioni all'interno delle divisioni qualcuno giunge e qui veramente il discorso della studio a livello scientifico entra in cortocircuito con il discorso della necessità della comunicazione anche a livello mediatico se volete divulgativo noi possiamo essere io personalmente lo sono e non solo perché comincio ad avere un'età avanzata lo ero anche prima io sono molto affezionato al termine medioevo e all'idea di medioevo senza dubbio e con me lo sono tanti altri e senza dubbio quando parliamo di medioevo e chiudiamo gli occhi non è necessario chiudere quelli fisici basta chiudere quelli mentali e ci passa davanti il film di quello che noi intendiamo per il medioevo e senza dubbio molto facilmente all'interno di quel film c'è quasi sempre uno spazio riservato alla crociata come può esserci uno spazio riservato adesso io alla stregoneria uno spazio riservato al mondo al mondo feudale uno spazio riservato al mondo delle città forse non tutti quando pensano al medioevo riservano nel loro film privato in quello che hanno in testa uno spazio per esempio alla scienza o alla tecnica o all'economia ma questo è un errore è una prova che in chi pensa così il medioevo che lui chi pensa così si è costruito con l'aiuto della sua cultura scolastica è un medioevo zoppicante perché nel mondo medievale in realtà la scienza la tecnologia l'economia la finanza hanno un posto amplissimo la fede religiosa senza dubbio e le varie declinazioni è la fede religiosa quindi si dovrebbe pensare a tutte queste cose e metterle insieme non è facile e allora la cosa migliore molto spesso lo dicono gli storici quando si sentono un po' messi messi un po' alla parete messi un po' alle corde la cosa migliore è quando si ha difficoltà a definire qualche cosa definirla facendone la storia quindi siccome l'idea della definizione di crociata come guerra dei cristiani contro i musulmani dei cristiani contro i musulmani nel medioevo sarebbe senza dubbio una definizione soppicante anche se magari la trovate in qualche enciclopedia e non vi parlerò di wikipedia perché si potrebbe obiettare che la crociata poi è stata usata anche nei confronti proprio come strumento come corpo contundente se volete nei confronti di altri pezzi della società cristiana o di un mondo che cristiano non era ma non era nemmeno musulmano magari un mondo laico un mondo di non credenti che la crociata è stata utilizzata anche come sinonimo di battaglia politica e allora è sempre più difficile darne una definizione coerente che non tenga conto di questi di questi mutamenti di questa dinamica allora tanto vale cominciare dal principio da quale principio se noi diciamo cominciamo a parlare della crociata abbiamo ancora un'oretta e dal principio immediatamente tutti pensiamo alla prima crociata le crociate quante sono Cesare Favese in uno dei suoi dialoghi con Leuco all'inizio di questo dialogo mi pare che sia il dialogo di Asterione quello del Minotauro dice le crociate furono più di sette beh sì le crociate qualche manuale le enumera diversamente arriva fino a nove però in realtà si prende un periodo che va dalla fine dell'undicesimo secolo quando come tutti sanno parte la prima crociata che riesce a conquistare Gerusalemme è quella che è stata organizzata peggio è quella che è cominciata senza sapere bene dove si andava a finire mentre poi le altre crociate sono state tutte programmate qualcuna anche molto attentamente qualcuna anche analiticamente ci sono conti su quanto deve costare una crociata quanti uomini ci vogliono c'è un testo che molti medievisti conoscono anche se non è naturalmente il più noto che è una specie di manuale intitolato Secreta Fidelium Crucis scritto da un nobile veneziano dei primi del Trecento che stava naturalmente in Grecia perché ormai l'impero veneziano era così diffuso nelle isole greche anche in parte nella terraferma e questo nobile veneziano che è Marino Sanudo Marino Sanudo detto il vecchio per non confonderlo con chi sa qualcosa di storia veneziana sa che c'è stato un noto cronista del Cinquecento che si chiamava nello stesso maniera ed era un lontano discendente Marino Sanudo il vecchio calcola tecnicamente su proposta su richiesta del pontefice che in quel momento è un papa di Avignon siamo ai primi del Trecento calcola quanto può costare la crociata quante navi ci vorranno quante persone e che tipo di persone andranno andranno pur stipendiate o salariate perché in realtà si tratta di mettere insieme un esercito e gli eserciti in generale non lavorano gratis quando gli eserciti lavorano gratis è peggio perché poi per mantenersi saccheggiano e fanno altre cose e quindi è bene pagarli e poi non ci sono soltanto i guerrieri la crociata vuol dire andare a combattere l'oltre mare ci vogliono le navi e le navi militari del tempo per eccellenza sono le galere beh una galera è primo Trecento e si va avanti fino al Cinquecento con questi valori numerici e in barca soltanto per servire i remi 240 persone calcolate 40 remi a bubordo 40 remi a tribordo ogni remo maneggiato da tre persone fate i vostri conti e vi accorgete del numero spaventoso di gente che ci vuole in una nave che tutto sommato non è nemmeno grandissima è molto sottile perché deve essere veloce deve pescare poco perché altrimenti si muove lentamente perché va a trazione di remi ma se pesca poco si rovescia facilmente siccome è stretta e lunga si rompe anche facilmente quindi armare un'armata di crociata vuol dire spendere una quantità straordinaria di denaro soltanto per tenere giorno dietro giorno migliaia di rematori legati al proprio remo per la verità all'inizio del Trecento non si legavano al proprio remo erano ancora liberi marinai si sarebbero legati dopo quando fossero usati gli schiavi ma all'inizio del Trecento non si usano ancora gli schiavi comunque una fatica e un lavoro enorme bene su questo su questo testo che è stato studiato da generazioni di studiosi della crociata abbiamo potuto imparare un sacco di cose quanto guadagna e cosa mangia per esempio un guerriero crociato oppure magari un rematore oppure un cappellano militare che al servizio sia dei crociati e dei rematori chi è il crociato è colui che ha ha fatto ha espresso un voto e questo voto è stato legittimato da un notaio e questo voto dà diritto a certi a certe prerogative per esempio il non pagare debiti finché il crociato non è tornato dalla spedizione e questo naturalmente è un bel vantaggio per lui e per la sua famiglia però nello stesso tempo l'essere crociato comporta anche dei doveri doveri fondamentalmente di fare fino in fondo la sua spedizione altrimenti rompe il voto e perde i diritti a tutte le sue prerogative e diventa anche un criminale e un criminale in una legislazione di ancien regime se è tale molto spesso è anche un criminale religioso cioè un sacrilego e il sacrilego lo viene scomunicato e lo scomunicato perde tutti i diritti civili e chiunque lo può addirittura uccidere e impadronirsi dei suoi beni per cui bisogna pensarci non due ma venti volte prima di fare un voto di crociata che si esprime attraverso una cerimonia molto semplice che noi conosciamo che è una cerimonia liturgica che ci dice molto sulla crociata perché contrariamente a quello che pensano certi film non ha nulla a che vedere con le vestizioni cavalleresche eccetera il voto di crociata è un puro voto di pellegrinaggio si entra in chiesa vestiti di sacco a piedi scalzi si riceve una una borsa la scarsella un bordone cioè un bastone si viene benedetti e si riceve un distintivo una piccola croce di stoffa che poi si può cucire sulla spalla oppure anche sulla scarsella sulla borsa da viaggio che è il signum super vestem il segno che riconosce uno che ha fatto un voto e come tale ha diritto a tutta una serie di prerogative non può essere toccato non può essere assalito non può essere imprigionato chiunque lo tocchi o chiunque con intenzioni cattive prende immediatamente una scomunica la fa sentenza quindi un crociato è in un certo senso una sacra persona però quando noi diciamo tutto questo ci riferiamo a una storia che comincia a un certo punto e noi sappiamo quando è cominciata noi sappiamo che è cominciata a Clermont in Alvernia che non possiamo grazie che qui vedete una bella bellissima miniatura però che è primo cinquecentesca e quindi vi dovete immaginare un'assemblea molto diversa e del resto poi il miniatore anche forse un po' equivocato sul testo che era chiamato a illustrare perché lui sta facendo una seduta conciliare in realtà le vicende sono differenti e forse vale anche la pena di narrarle telegraficamente Papa Urbano II cisterci un monaco cluniacense a lungo Dona di Lagerie che era addirittura il priore dell'abbazia di Cluny voi sapete che negli ordini tradizionali che in occidente sono quelli dell'ordine benedettino gli ordini si dividono in congregazioni quindi io io dico e molti diciamo e diciamo una inesattezza ordine di Cluny dovremmo dire piuttosto la congregazione cluniacense la congregazione dell'abbazia di Cluny in Borgogna perché le grandi abbazie hanno benedettine debbono rispettare la loro regola ma in più hanno un un gruppo un piccolo tesoro di regole suppletive di regole aggiuntive che si chiamano in vario modo capitola eccetera eccetera che sono quelli tipici della loro congregazione quindi un monaco cluniacense un monaco benedettino che segue la regola di benedetto ma che vi aggiunge i capitoli specifici per tutti i monasteri che afferiscono alla abbazia di Cluny e l'abbazia di Cluny è quindi il monastero generale e naturalmente nell'abbazia ci stanno gli abati però i monasteri non sono diretti dagli abati sono diretti dai priori che sono semplicemente i primi interpares fra i monaci Odone di Lagerin non è l'abate di Cluny l'abate di Cluny era una sorta di vice papa alla fine dell'undicesimo secolo è semplicemente il priore quindi il maestro dei monaci di Cluny che alla morte di Gregorio VII che era il suo maestro diventa a sua volta papa e prosegue chi è più affresco più fresco più aggiornato sulle cose medievistiche sa che siamo nel momento centrale della cosiddetta lotta per le investiture o se preferite della cosiddetta riforma della chiesa dell'undicesimo secolo che in quel momento segna una vittoria del gruppo dei riformatori che stanno intorno al papa di Roma sul gruppo della chiesa tradizionalista che è una chiesa che guarda soprattutto alla leadership imperiale che sognerebbe sognerebbe perché in occidente il discorso diventa diverso una chiesa perpetuamente simile a quella che era a suoi tempi e poi è rimasta la chiesa ortodossa la chiesa cioè greco-bizzantina poi ci saranno le altre forme di ortodossia a partire dalla Russia il cui capo il cui vero capo è in realtà l'imperatore si può dire che fino all'undicesimo secolo anche nella chiesa latina il vero capo della chiesa pur non essendo un sacerdote e anche qui si potrebbe anche discutere se in che misura fino a che punto un imperatore non sia un sacerdote tecnicamente non lo è certamente è l'impero e l'imperatore è d'altra parte sacra persona è una persona caricata di valori che non sono soltanto valori immanenti e che sono valori anche sanciti da una certa da una tradizione da una simbolica da una quantità di elementi che fanno sì che non siamo non possiamo sentire di essere in presenza di una semplice autorità religiosa che questo discorso sono costretto a bozzarlo del resto fra voi c'è uno che la farebbe molto meglio di me però è bene ricordarsene perché siamo in un mondo in cui la complementarità tra il potere religioso e il potere temporale è una complementarità che come sapete allo stato puro e perfetto non c'è mai stata ma che comunque è una complementarità ambigua perché in realtà nessun potere spirituale è solo tale cioè è solo spirituale e in questo tempo almeno ma è un tempo che va avanti almeno fino alla rivoluzione francese nella nostra Europa nessuna autorità civile è solo esclusivamente un'autorità civile per così dire in qualche modo bagnata di sacro come ha detto uno studioso con una bella espressione impropria ma che rende molto bene l'idea bene Urbano II sta vincendo la sua battaglia interna per la moralizzazione e il rinnovamento della chiesa questa battaglia è stata sostenuta in realtà anche da molti personaggi del mondo laico del tempo molti chiamiamoli con i termini con cui abitualmente li chiamiamo anche se un medievista troverebbe immediatamente da ridire e direbbe che non si deve dire così molti principi feudali e cavalieri che sono evidentemente laici ma che hanno partecipato e spesso con coraggio spesso con abnegazione spesso in perfetta buona fede al rinnovamento della chiesa e ci hanno partecipato anche combattendo perché questo rinnovamento della chiesa questa lotta per la riforma molto spesso si è trasformata in un vero e proprio scontro militare con chi la riforma non voleva a cominciare appunto dall'imperatore romano germanico però a questo punto la battaglia è quasi vinta e come sapete quando le guerre finiscono i militari cominciano a diventare scomodi gli ex combattenti cominciano a diventare noiosissimi non è una cosa che si sono inventati gli americani dopo la guerra in Vietnam è sempre un po' stata così si sa benissimo per esempio che nel nostro rinascimento quando le guerre le facevano soltanto degli specialisti abbastanza ben pagati almeno i comandanti le truppe un po' meno ma insomma che erano le compagnie di ventura beh i ventulieri bisognava tenerli continuamente in guerra quindi bisognava continuamente inventarsi delle guerre e quindi stipendiare gli eserciti perché l'esercito finché stava in guerra per paradossale che possa sembrare era tranquillo ordinato si limitava a fare le sue cose militari ne faceva il meno possibile perché ammazzarsi a vicenda non è mai piaciuto a nessuno quando però scoppiava la pace beh insomma i ventulieri si mettevano le mani nei capelli perché questo voleva dire che i pagamenti cessavano che loro restavano senza lavoro allora i casi erano due o darsi a brigantaggio o fare di tutto per organizzare nuove guerre e per cui abbiamo questa lunga età di guerre continue che però d'altra parte erano guerre endemiche e abbastanza poco cruente spesso era la pace più cruenta perché la pace era accompagnata dal disordine beh qui siamo in una situazione per certi versi simili questi guerrieri questi combattenti questi cavalieri o servientes dei cavalieri sergenti come diremmo nell'italiano corrente che hanno fatto la guerra a servizio dei riformatori della chiesa e a questo punto tornano alla loro condizione normale e la loro condizione normale è quella delle guerre endemiche fra loro ma il papa ha bisogno di pace la chiesa ha bisogno di pace la società cittadina del tempo ha bisogno di pace è una società in cui stanno crescendo le città le città vogliono dire commercio vogliono dire produzione vogliono dire compravendita vogliono dire mercato tutte queste cose non si possono fare in tempo di guerra e allora ci sarebbe bisogno di qualche cosa che impegnasse questo cetro di combattenti Urbano II siamo nel novembre del 1095 a Clermont in Alvernia quindi Francia centrale riunisce un concilio che non è un concilio ecumenico è un concilio regionale è un concilio cioè dei vescovi degli abati dei prelati di un'area abbastanza precisa che è l'area del centro sud francese e in questo concilio stabilisce come dovremo vivere nella chiesa adesso che la battaglia per la riforma della chiesa è vinta quindi un concilio è estremamente importante accorrono anche laici da ogni parte della Francia eccetera ma non è non è il primo concilio che il Papa fa di questo tipo il Papa è partito da Roma siamo nel novembre del 95 quando lo troviamo a Clermont è partito già da un anno e da Roma lui ha disseminato il suo cammino rivolto verso la Francia lo ha disseminato letteralmente di concili regionali volti a organizzare la vittoria ora che i riformatori hanno vinto questo braccio di ferro con l'impero e d'altra parte non l'hanno ancora vinto del tutto ci sono ancora delle sacche di resistenza il viaggio di Urbano II è un viaggio pericoloso a volte rischia di essere catturato da questi suoi avversari che sono vinti ma non sono ancora battuti del tutto in particolare nella primavera del 1095 noi vediamo che il Papa a Piacenza Piacenza è una delle roccaforti della riforma ha incontrato messaggeri dell'imperatore di Costantinopoli del Basileus che gli hanno chiesto qualcosa è una pagina cronistica su cui si è molto studiato anche per cercare di negarla ma non sembra ragionevole il negarla e che è un pochino in fondo il nucleo della spiegazione della nascita della crociata guardate che siamo alla nascita non siamo all'inizio della crociata quando uno nasce non è all'inizio della sua parabola esistenziale la sua parabola esistenziale è cominciata circa nove mesi prima e per la crociata si potrebbe dire la stessa cosa se la crociata è un affrontamento militare fra cristiani e musulmani è un affrontamento che viene vissuto come un'esperienza religiosa non una guerra di religione ma perlomeno una guerra fra persone portatrici tutte di un messaggio religioso che non è la stessa cosa beh allora la crociata ha una lunga preistoria in tutto l'alto medioevo nelle lotte per l'espansione del cristianesimo nell'Europa nel nord est nelle guerre missionarie di Carlo Magno di Ottone I nelle guerre imperiali bizantine in cui tutto quello che riguarda l'impero è per definizione sacro e quindi anche l'esercito è sacro la sacralizzazione della guerra espressa anche dalla benedizione delle armi e da tutto il resto è qualcosa che sta nella preistoria della crociata qualcuno ha voluto fare cercare di creare anche una storia eterna per così dire globale e universale della crociata dicendo ma in fondo che cos'è la crociata la crociata è la lotta fra i cristiani e i musulmani ma cosa sono i cristiani e i musulmani i cristiani e i musulmani potrebbero essere intesi come l'espressione medievale fra undicesimo e quindicesimo secolo dell'occidente che è cristiano contro l'oriente che è musulmano ed evidentemente non si tratta di un occidente e un oriente leggibili al puro livello geografico perché al puro livello geografico in quel momento anche la Spagna è quasi del tutto musulmana e la Spagna fino a prova contraria non sta geograficamente parlando a occidente a oriente ma sta a occidente dell'Europa però è vero che nella sensibilità del tempo quando si pensa alla Spagna se ne pensa a qualche cosa come strettamente connesso con l'Asia o con il Nord Africa e non si sbaglia tutto sommato in questo perché tutte le definizioni hanno sempre qualcosa che non torna qualcuno anche recentemente una parte della storiografia statunitense certamente molto impressionata dal libro di Samuel Huntington sullo scontro di cultura e molto impressionata anche da tutto quello che è successo nel mondo soprattutto dall'11 settembre in poi ha cercato di ritessere la storia universale dell'eterno e necessario scontro fra Oriente e Occidente e allora ha ruolato d'ufficio nella storia delle crociate anche i greci che combattono contro i persiani o i romani che combattono contro i persiani o i romani che combattono contro i cartaginesi è evidente che anche se queste operazioni le hanno fatte gli storici uno storico in generale rifugge un po' da queste categorizzazioni troppo generiche troppo ampie anche perché infinite cose non tornano insomma non si può fare una storia della crociata universale che per farla cominciare magari dalle guerre greco-persiane del quinto secolo avanti Cristo astrae dal fatto che la crociata si chiama crociata e quindi il rapporto con la croce ci sarà ma nel frattempo questo rapporto è scoppiato perché nella sensibilità comune il termine crociata non è diventato tanto sinonimo di lotta fra cristianesimo e islam quanto sinonimo di lotta fra due principi fondamentali quasi di lotta psicomachiaca direbbe Prudenzio la psicomachia di Prudenzio questo poema allegorico noiosissimo in cui Prudenzio riscrive i sette contotebe di Seneca o di Stazio e la tebaide di Stazio che a sua volta poi avevano delle origini nella tragedia greca come sapete ma Prudenzio la tragedia greca la conosceva un po' meno bene e lui riscrive la storia dei sette contotebe inventandosi i sette eroi che assediaron tebe come sinonimo delle sette virtù cardinali allora se sono sette virtù che in realtà lui rappresenta come sette guerrieri ciascuno delle quali è sinonimo di una virtù cardinale allora ci saranno anche sette vizi affrontati uguali e contrari e allora la guerra che è una guerra spirituale perché è la guerra fra il vizio e le virtù è la guerra che si fa quotidianamente nel cuore di ciascuno di noi diventa una sequela di duelli di singolar tensioni tra la virtù rappresentata come un guerriero e il vizio opposto alla virtù rappresentata anche lui come un guerriero con la panoplia delle armi con i colori delle vesti e degli scudi e quindi ci saranno colori positivi sinonimo di virtù e colori negativi sinonimo di vizio e questa psicomachia di prudenzio riempie non solo l'iconografia medievale ma l'immaginario per molto tempo e va anche ancora al di là del medioevo e la crociata diventa per eccellenza il luogo dove per definizione il bene combatte il male si sa benissimo che gli eserciti sono quello che sono e che non si può certo dire che l'esercito cristiano non fosse un esercito di santi semplicemente perché le bandiere e le armi venivano benedette e l'esercito pagano o meglio l'esercito musulmano che nella poesia epica medievale si chiamava pagano anche se i musulmani pagani non sono è un esercito invece di reprobi ma certamente la ritrascrizione simbolica giungeva a questo risultato siamo a una guerra che viene rappresentata in ambito cristiano ma anche musulmano come l'ultima delle guerre non o non solo perché sarà una guerra che precederà alla fine dei tempi ma perché è la radice ultima della guerra lo scontro fra ciò che è bene e ciò che è male ciò che è positivo e ciò che è negativo e la crociata si finisce a un livello come dire anche psicologico intimo profondo per capire in questo senso del resto non c'è bisogno di andare tanto lontano nemmeno a livello storico Bernardo di Chiaravalle scrive per i templari un libro che è un trattato un piccolo trattato intitolato il libro De Laude De Laude Nove Milizie Ad Milites Tempri il libro che illustra la lode di una nuova cavalleria milizia in questo senso e che è scritto per i cavalieri templari è un libro anticavalleresco perché se la prende con i cavalieri di questo mondo i cavalieri mondani che fanno l'amore vanno a caccia fanno le guerre e quindi muoiono spesso in peccato mortale mentre invece al suo tempo dice Bernardo è nata una nuova cavalleria è una cavalleria virtuosa è una cavalleria che persegue solo il bene è una cavalleria di poveri è una cavalleria di gente che non va in giro ornata ma anzi veste poveramente ma nello stesso tempo è ben armata perché deve vincere le battaglie che fa contro chi le fa le sue battaglie beh in realtà questa cavalleria di poveri è fatta di credenti che come tali fanno soltanto la vera grande guerra il bonum certamen di San Paolo o se volete il profeta Muhammad l'ha chiamato in un'altra maniera Jihadul al-Bar la grande guerra la guerra che il credente fa in se stesso contro il male contro il peccato poi però c'è la piccola guerra e la piccola guerra sono le lotte quotidiane le lotte di tutti i giorni Bernardo non conosce l'Islam non conosce la teologia del Jihad però nel Liber De Laude scrive delle cose che Mutatis Mutandis un teologo musulmano avrebbe potuto scrivere quasi nella stessa maniera la grande guerra è quella contro il male e il peccato però quando si fanno le piccole guerre contro i nemici bisogna stare attenti perché il combattente cristiano non può combattere contro il bene deve per forza combattere contro il male il combattente mondano combatte contro il suo nemico e se lui è al servizio di un re che in quel momento ha torto lui continua a combattere fedalmente per il re che ha torto ma un combattente cristiano questo non lo può fare e allora il combattente cristiano combatte solo contro il male il male che gli sta davanti concretamente è un guerriero musulmano che può essere personalmente il migliore il più buono il più santo degli uomini ma in quel momento combatte e combatte per contrastare il bene che sta dalla parte dei cristiani e quindi a questo punto Bernardo di Cervo noi stiamo parlando del più grande mistico del dodicesimo secolo usa ed è chiaramente come dire in lotta con se stesso è chiaramente in imbarazzo perché dice beh questo se io consento anzi raccomando al templare di uccidere un nemico io faccio una cosa che sento come orribile io monaco cristiano come supero questa difficoltà questa contraddizione beh devo sempre ricordarmi che quello che sto facendo facendo questa guerra materiale io che faccio una guerra che è soprattutto spirituale questo fatto non è propriamente un omicidio ma è Bernardo dice proprio questo non omicidium immopozius malicidium non è un omicidio ma guardate questo immopozius è un capolavoro perché chiarisce anche tutta la reticenza con cui lui scrive questo ma piuttosto direi piuttosto che è un malicidio perché io non uccido lo so benissimo che uccido fisicamente qualcuno ma non è questo che io voglio fare è la necessità la necessità che mi porta a far questo perché è l'unico modo per impedire un male superiore che sarebbe quello del trionfo della parte del torto del trionfo della parte sbagliata del trionfo dell'ingiustizia la crociata vive anche di questo tipo di contraddizioni a Clermont il Papa nel novembre del 95 perfeziona un discorso che ha cominciato con gli ambasciatori bizantini gli ambasciatori bizantini sono andati dal Papa perché sono perfettamente al corrente che ormai in Occidente è successa una cosa c'è già stato lo scisma da 40 anni lo cosiddetto scisma d'Oriente la Chiesa Latina e la Chiesa Greca non sono più unite ciascuna ha la sua gerarchia sono si guardano in Cagnesco però nello stesso tempo è successo qualcosa di gravissimo in Oriente è successo che una nuova ondata di musulmani che vengono dall'Asia centrale e che sono convertiti di fresco che sono degli uralo altaici o degli uro finnici insomma dei turchi i turchi del gruppo di tribù che fa capo a un eroe eponimo che si chiama Seljuk e quindi li chiamiamo abitualmente i turchi Seljukiti sono arrivati dall'Asia centrale dall'attuale Afghanistan Uzbekistan sono arrivati nel vicino Oriente si sono praticamente quasi sostituiti agli arabi che attornavano il califo di Baghdad e sono diventati la guardia del corpo del califo di Baghdad ma è diventato un esercito che tiene prigioniero il suo il suo capo il suo principe e allora naturalmente bisogna guardare a questi nuovi arrivati che sono duri feroci e che hanno distrutto l'esercito bizantino nella battaglia di Manzikert che è nell'attuale Turchia era una cosa successa vent'anni prima ma sapete noi siamo abituati a pensare in tempi reali abbiamo difficoltà a pensare che l'onda lunga di una cosa vent'anni successa vent'anni prima potesse arrivare solo vent'anni dopo in occidente la notizia no era arrivata nel giro di qualche settimana ma i risultati di questa notizia le contromisure eccetera eccetera erano state presse in tempi più lunghi che noi abbiamo quasi difficoltà a concepire nel 1094 95 arriva in occidente e arriva al vincitore in quel momento del braccio di ferro con l'imperatore cioè al papa una richiesta di ingaggio di mercenari da parte dell'imperatore di Costantinopoli non è una richiesta d'aiuto anche se tutte le cronache l'hanno presentata in questa maniera è una richiesta di ingaggio perché si apprezza molto il combattere degli occidentali combattere su grossi cavalli ben addestrati combattere con armi pesantissime che permettono proprio di sfondare gli schieramenti nemici quando io ho cominciato a parlare con gli organizzatori di questa serata e si pensava che carattere dargli in un primo tempo fedele all'idea che si dovesse presentare un'opera che in qualche modo avrebbe dovuto qualificare la serata quindi qual è un'opera d'arte che potrebbe dare lo spirito della crociata oppure un'opera d'arte che potrebbe secondo il progetto degli organizzatori della mostra in qualche modo collaborare a superare un elemento di guerra di violenza e io avevo pensato di mostrarvi e di commentare analiticamente un'opera che è un'opera della fine dell'undicesimo secolo è un arazzo un arazzo molto stretto praticamente una cinquantina di centimetri di altezza ma lungo 70 centimetri che è l'arazzo di Bayeux l'arazzo di Bayeux che spiega come Guglielmo di Normandia che noi conosciamo come il conquistatore Guglielmo duca in Normandia invade l'Inghilterra nel 1066 e diventa suo re e sottomette l'Inghilterra alla volontà papare perché lui ha giurato servizio ha giurato fedeltà vassallatica al Papa e ne porta la bandiera il Vesillum Santi Petri che è il segno che lui è un vassallo del Papa e che quindi il suo nuovo regno il regno di Inghilterra sarà un regno vassallo della Santa Sede è una storia che durerà a lungo ancora oggi sulle sterline la regina Elisabetta II si fregia del titolo di Defensor Fidei che è un titolo che gli venne dall'iniziatore della riforma anglicana da Enrico VIII il quale però era un re teologo era un re dotto e all'inizio della riforma aveva scritto contro Lutero una Defensio Fidei anche molto efficace molto attenta molto puntuale da allora i re di Inghilterra sono anche Defensor Fidei ma lo erano anche da prima perché già da prima erano vassalli del Pontefice naturalmente poi con la riforma questo elemento si è unilateralmente interrotto ma i re di Inghilterra hanno continuato a qualificarsi Defensor Fidei come vedete lunga l'onda della storia è sempre lunga a volte sembra sparire poi riemerge l'imperatore vuole soltanto dei mercenari la razza di Baia spiega come erano questi mercenari pesantemente armati combattevano con una tecnica nuova che permetteva di tenere la lancia molto aderente al corpo e di costituire grazie all'appoggio sulle staffe un blocco unico armi cavaliere cavallo che quindi dava una potenza di penetrazione nelle linee nemiche incredibili gli imperatori di Bisanzio amavano molto e prediligevano questa tecnica che nelle loro armate non si poteva riprodurre nemmeno in quelle musulmane e allora erano questi barbari che venivano dall'Europa che venivano strapagati quando andavano a fare il servizio mercenario in fondo è questo e il papa dice questo alla fine del concilio di Clermont dice guardate rivolto ai cavalieri francesi che erano venuti ad ascoltarlo io ho qualcosa per voi ma avete aiutato fino ad ora nella riforma della chiesa io vi chiedo di continuare ad aiutarmi come? fino ad ora avete combattuto i nemici vostri del papato cioè i miei e li avete battuti continuate a farlo ma non con loro loro non ci sono più loro si sono piegati loro hanno accettato la loro sconfitta e quindi voi cosa potete fare? dovete aiutarmi adesso a costruire un mondo di pace secondo i dettami di una chiesa riformata per fare questo mondo di pace in Europa non abbiamo più bisogno di guerre ma proprio questo è il punto voi sapete fare solo la guerra non sapete fare altro voi ci vivete sulla guerra e allora fatemi e fatevi il piacere di andarla a fare da un'altra parte di andarla a fare in un luogo dove fra l'altro potrete continuare a servire la vostra causa che era la causa del Dio la causa del Cristo quando servivate il Papa perché andrete a difendere i cristiani d'Oriente che sono minacciati da questi nuovi pagani non si dice musulmani non si sarebbe nessuno nemmeno potuto usare questo termine non era conosciuto in Occidente non si parla della loro fede si parla del fatto che sono dei barbari che vengono dalla Persia che è vero perché i turchi venendo dall'Asia centrale avevano dovuto attraversare la Persia per arrivarne in vicino Oriente e che sono particolarmente crudeli contro i cristiani come si sia potuti arrivare da questa idea della spedizione in Oriente a un'altra idea la liberazione di Gerusalemme liberazione dal punto di vista cristiano naturalmente il ritorno di Gerusalemme ai cristiani Gerusalemme era stata cristiana fino al VII secolo perché faceva parte dell'impero d'Oriente poi erano arrivati i musulmani i cristiani erano rimasti però la città e l'area intorno era restata in mano ai califfi musulmani adesso si tratta di riconquistarlo il Papa l'ha detto questo è arrivato a Clermont nel 1095 a dire che il fine ultimo di questa spedizione sarebbe stata la conquista di Gerusalemme beh se l'avesse detto sarebbe andato molto al di là di quello che lui aveva promesso al Basileus all'imperatore d'Oriente all'imperatore d'Oriente lui aveva semplicemente promesso di procurargli qualche migliaio di armati e gli riprocura e questi partono ma nel frattempo un luogo come l'Europa nel quale si è combattuto una guerra giudicata come santa contro coloro che macchiavano di peccato la Chiesa una guerra in cui i papi hanno assicurato che chi moriva andava immediatamente in paradiso perché il papa si poteva servire nelle sue prerogative per liberarlo dalle pene previste per i peccati quella che ordinariamente si chiama l'indulgenza gente abituata a combattere nello stesso tempo a essere convinta di avere queste prerogative religiose parte per una spedizione verso un mondo che non conosce contro un nemico che non sa chi è non sa che lingua parla non sa come è fatto ma sa che è un nemico della croce e non sa nulla o quasi nulla dell'Islam qualcuno di loro molti di loro avevano fatto le guerre di Spagna e avevano imparato alcune cose ma non potremmo dire che cosa se voi leggete le chansons de geste che sono state scritte per le guerre di Spagna la chansons de Rolande per esempio lettura fra l'altro bellissima assolutamente consigliabile voi vedrete che i musulmani si parla della fede religiosa dei musulmani e come? e se ne parla come di una fede pagana del tutto fantastica del tutto inventata in cui entrano anche tratti di adorazione del demonio e in cui entrano tratti di adorazione di antichi dei i pagani di Spagna adorano adorano Giove adorano Apollo adorano il demonio tutto questo evidentemente non è che non sia vero non lo era nemmeno per chi stava a sentire probabilmente almeno che non fossero proprio persone del tutto prive di una minima idea di quello che stava succedendo era la trasfigurazione epica e generazioni di europei hanno continuato a leggere la chansons de Rolande e a riconoscersi se c'è se c'è un testo poetico in cui aleggia lo spirito di crociata è la chansons de Rolande ma nello stesso tempo i saraceni della chansons de Rolande non hanno nulla a che vedere con i musulmani storici e di questo chi aveva avuto coniezione dei saraceni lo sapeva e allora siccome il tempo comincia a stringere e io sono arrivato appena alle soglie della prima crociata d'altra parte è quella che resta fondamentale normativa mostrando come all'inizio altro non fosse che una spedizione militare che però e lì succede una prima svolta questa spedizione militare acquista una rinomanza straordinaria se ne comincia a parlare in un modo che conosciamo inadeguatamente perché un po' lo sappiamo come circolavano le notizie letteralmente di santuario in santuario e di mercato in mercato che il mercato in latino feria si fa quando c'è la festa di un santo e la festa di un santo si fa intorno al suo santuario e il suo santuario diventa un mercato e nel mercato c'è di tutto c'è anche i luoghi dove si canta dove si danza dove si ascoltano i cantastorie e dove si narrano queste cose e che il papa vuole che i cavalieri cristiani vadano in soccorso dei cristiani d'oriente diventa un qualcosa una parola d'ordine che immediatamente cambia cambia valore cambia aspetto cambia significato cosa si va a fare a Gerusalemme ma la cristianità dell'undicesimo secolo la cristianità latina occidentale dell'undicesimo secolo lo sa bene cosa si va a fare nel vicino oriente si va a Gerusalemme si va in pellegrinaggio e allora questi qui che vanno in pellegrinaggio ma non ci vanno come come pellegrini ordinari perché questo il papa gliel'ha spiegato voi avrete gli stessi privilegi che hanno ordinariamente i pellegrini che vanno a Gerusalemme e noi cosa ha detto il papa lo sappiamo molto inadeguamente in maniera molto inadeguata da cinque fonti cronistiche diverse tutte naturalmente quindi riflesse scrittori che narrano tre di loro cinque sostengono che erano lì e che hanno ascoltato ma noi non abbiamo strumenti per verificarlo e queste cose le scrivono post eventum quando mai Gerusalemme era presa e ciò nonostante soltanto in un paio di questi cinque scrittori noi abbiamo un riferimento da parte del papa a Gerusalemme ha parlato anche di Gerusalemme il papa non lo sapremo mai probabilmente sì nella misura in cui ha assicurato a queste persone che partivano per andare a combattere una indulgenza simile a quella che prendono i pellegrini quando vanno in terra santa e il fatto è che come tutti gli eserciti non dico medievali ma tutti gli eserciti prima delle riforme sei-settecentesche il signor di Monte Cuccoli il principe il duca di Marboro Eugenio di Savoia i grandi i grandi generali della riforma militare del sei-settecento prima di allora lo sappiamo tutti gli eserciti si portavano dietro un codazzo di non combattenti addirittura non solo i giocolieri non solo gli ufficiali portavano i loro servienti perché in generale erano dei nobili che avevano usanze nobiliari ma addirittura le prostitute i cantori e via discorrendo anche l'esercito crociato parte più o meno così parte più o meno così ma è un esercito che parte per un'impresa santa voluta dal papa quindi c'è una serie di remore sul comportarsi come si comporta un'oste cioè un'armata in battaglia di tipo feudale però in cambio il luogo che nelle armate feudali ordinarie veniva tenuto magari dai giocolieri dagli istrioni dai giullari e dalle prostitute lì è tenuto da profete è tenuto da predicatori ambulanti spesso non si capisce nemmeno di che ordine i quali vanno dietro ai crociati ma parlano con i poveri che stanno dietro ai guerrieri e sono difesi dai guerrieri durante la strada ma allo stesso tempo diventano un po' guerrieri anche loro perché la necessità è quella non fosse altra la necessità di mangiare tutti i giorni e quindi di organizzarsi con la caccia la pesca eccetera e quello che loro predicano non è il viaggio volto a contenere la minaccia di alcuni barbari che vengono dall'Asia loro non sapevano nemmeno di cosa si trattava è un'armata santa è un'armata santa in movimento che ha uno scopo e questo scopo non si può leggere se non meditando sull'ultimo libro della Bibbia sulla sull'Apocalisse la crociata diventa l'ultima delle guerre e allora il fine lo scopo della crociata è l'arrivo a una Gerusalemme che non è la Gerusalemme della Palestina ma loro ci stanno andando verso quella parte ma quella Gerusalemme a cui si vuole arrivare a cui i pauperes vogliono arrivare e i pauperes finiscono col convincere anche qualche principe è la Gerusalemme celeste è l'avvento del regno dei cieli questo fa della crociata qualche cosa di molto particolare naturalmente ecco abbiamo dei passaggi ve li dico telegraficamente perché ho sprecato quasi due ore nel preambolo dell'introduzione di tutto quello che vi volevo dire se si torna indietro un attimo alla fotogramma precedente ecco grande acqueforte del grande Gustave Doré che in pieno ottocento illustra l'histoire de Croisade di Louis-François Michaud una storia scritta da un studioso monarchico in tempo però di monarchia sì ma monarchia d'origine giacobina al tempo di Napoleone Michaud ha illustrato una quantità di cose la Bibbia la Gerusalemme liberata l'Orlando furioso e ha illustrato anche la storia delle crociate di Michaud la storia delle crociate di Michaud però era stata scritta con uno scopo questo studioso monarchico aveva seguito i dettami dell'imperatore il quale da giovane come vi ricorderete aveva combattuto in Egitto e in Siria contro gli inglesi e al quale era rimasta un'idea alla quale poi sarà fedele suo nipote quando suo nipote diventerà suo successore come Napoleone III che era quella della necessità che la Francia si facesse un impero ampiasse il suo impero coloniale perché ce l'aveva di già naturalmente in funzione anti-inglese quindi tutte le guerre coloniali fra francesi e inglesi che Napoleone voleva riprendere Napoleone va in Egitto quando è ancora il generale Bonaparte per studiare il modo di tagliare agli inglesi la strada verso l'India e riprendere un discorso che si era già avviato prima durante la guerra dei sette anni e allora è necessario che gli europei i francesi e poi gli europei si riappropriano di questa di questa grande epopea che è la crociata che viene rivissuta da Michaud cattolico monarchico come una guerra i cui scopi sono duplici la vittoria sulla barbarie e in quel momento sull'Islam sentito come barbarie da un lato e naturalmente la propagazione del cristianesimo da un'altra non c'è nello statuto originale della crociata l'idea missionaria non si va in crociata per convincere o per obbligare i musulmani a diventare cristiani si va per contendere ai musulmani la sovranità della città santa ma quest'idea nell'ottocento che poi Meshaw è stato straordinariamente importante per la costruzione del nostro immaginario quest'idea naturalmente era superata eppure se voi guardate quest'immagine voi vedete una cosa ci vedete il rispetto ci vedete l'ammirazione magari tinta un po' di paura per questo personaggio Saladino personaggio della terza crociata quindi siamo alla fine degli anni del dodicesimo secolo il personaggio che aveva in qualche modo chiuso un capitolo delle crociate perché la crociata la storia delle crociate si apre con la prima e alla fine della prima crociata gli europei prendono Gerusalemme ci stabiliscono addirittura un regno il regno appunto di Gerusalemme una monarchia feudale occidentale e naturalmente non può vivere senza l'appoggio degli accidentali e allora bisogna crearsi una sorta di legione straniera di combattenti saranno gli ordini religiosi bisogna chiedere aiuto alle repubbliche marinare d'altra parte durante le crociate la vita quotidiana continuava le tre crociate del dodicesimo secolo non si sognano nemmeno di bloccare il commercio fra cristiani e musulmani in Mediterraneo succede esattamente il contrario succede che le nostre repubbliche marinare stabiliscono immediatamente dei punti di contatto dei mercati degli empori in oriente e allora i commerci risultano rafforzati da queste imprese però le imprese vanno male la seconda crociata finisce con fallimento la terza finisce addirittura con la scomparsa del regno di Gerusalemme che sopravvive soltanto nella fascia costiera dell'attuale Siria Libano Israele perché quel personaggio lì Salaheddin Yusuf Ibn Ayub Salaheddin cioè Giuseppe figlio di Job detto la fortezza della fede questa è la traduzione del nome conquista Gerusalemme e cosa succede di questo personaggio ecco qui la crociata diventa veramente una cartina di tornasole per leggere la storia dell'Europa occidentale delle vicende dell'Europa occidentale se voi chiudete gli occhi e tornate al vostro nostro film sul Medioevo e cercate di svolgere rapidamente la pellicola certamente prima o poi cadrete sulla cavalleria non è che la cavalleria sia più importante di tante altre cose che sono successe in Medioevo ma nel nostro immaginario la cavalleria ha un ruolo particolare al punto tale che la cavalleria significa anche la cultura cortese con tutto quello che ne consegue e quindi è un po' un pivò è un po' un pernio intorno al quale ruota la nostra concezione di Medioevo bene la cavalleria è una istituzione la cui sostanza sta in alcune virtù principalmente evidentemente il coraggio guerriero ma anche la magnanimità la generosità e la lungimiranza al tempo stesso bene l'eroe per eccellenza di queste virtù cavalleresche nel corso del di un periodo che va tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo e che culmina se volete in un paio di novelle che sono basilari però scritte nel Decameron di Giovanni Boccaccio l'eroe cavalleresco per eccellenza il più coraggioso e più magnanimo di tutti è quel signore lì l'eroe della virtù eminentemente cristiana della cavalleria viene assunto dai cristiani del trecento nel principale nemico della crociata in quello che aveva cacciato i crociati da Gerusalemme è una storia che ha dell'assurdo nella sua apparente contraddizione nella sua si direbbe paradossalità perché beh quando si vuole tradurre questa cosa in un discorso molto generico e semplicistico si dice avete presente cosa è successo durante la seconda guerra mondiale un'altra seconda guerra mondiale in Africa si sono in Nord Africa si sono affrontati due capi militari da una parte c'era un generale di scarsissimo valore il maresciallo Montgomery comandante in capo delle truppe inglesi del settore del Nord Africa però questo maresciallo di scarsissimo valore era imparentato con la Casa Reale perde e perde alcune battaglie alla fine alla fine vincerà su quel fronte ma perde molte battaglie e queste sconfitte gli vengono infritti da un generale di valore abbastanza mediocre dalla carriera piuttosto ambigua un uomo che si era fatto strada con la politica che era il generale Rommel che poi nel 44 sarà uno dei membri della della congiura dell'attentato al Führer ma che però era noto per essere un uomo che aveva fatto carriera in quanto nazista di stritta osservanza bene il generale Rommel su quale non c'è motivo di esercitare una critica militare entusiasta infatti è stato molto ridimensionato dalla critica militare moderna il generale Rommel passa per essere un genio militare un genio assoluto e chi è che erige al generale Rommel questo monumento di genio militare assoluto la la propaganda tedesca ma nemmeno per idea la propaganda tedesca sì certamente valuta un generale vittorioso come è ovvio che succeda poi questo generale vittorioso avrà la sua la sua storia personale che tutti conoscono è la propaganda inglese e perché per un motivo ovvio se il generale Montgomery al quale bisogna far fare una figura splendida nonostante sia un generale mediocre è stato battuto non può essere stato battuto se non da un autentico genio militare bene nel dodicesimo secolo il mio venerato maestro Joshua Praver quando studiavo a Gerusalemme Joshua Praver che era dell'università ebraica di Gerusalemme che è un grande studioso di storia delle crociate lui diceva sempre così diceva appunto il Saladino è il Rommel del dodicesimo secolo i cristiani non potevano ammettere che il loro grande purissimo eroe che era Riccardo Cordileone re d'Inghilterra che in realtà era un autentico animale politicamente e anche militarmente era un uomo d'un coraggio sovrumano bestiale però era bestiale anche nelle altre cose è un uomo un uomo feroce un un criminale di guerra si direbbe oggi cosa che non è Saladino beh Riccardo Cordileone non veniva visto come lo vediamo noi critici moderni allora veniva visto come il purissimo eroe crociato il purissimo eroe crociato è battuto da questo principe kurdo che era un funzionario di medio livello del sultano turco e che naturalmente con le sue mani era riuscito a conquistare la Siria l'Egitto a diventare emiro e che era un uomo assolutamente eccezionale allora torna perché perfino Riccardo Cordileone un uomo grandissimo è stato battuto da un uomo straordinario come quello e allora per salvare la figura insalvabile della figura di Riccardo Cordileone si deve fare un monumento spirituale al Saladino e il Saladino per tutto il mondo medievale ci sono decine di romanzi storici su di lui è diventato l'eroe cavalleresco per eccellenza non solo valoroso ma anche magnanimo ma anche ma anche buono nonostante qualche cosa sulla coscienza ce l'abbia anche lui e questa storia è durata talmente a lungo che in pieno ottocento proprio mentre Michaud faceva quella immagine del Saladino in pieno ottocento anzi non in pieno all'inizio dell'ottocento Sir Walter Scott scrive un suo romanzo che oggi è quasi dimenticato perché tutti si ricordano di Evening di Robin Hood e hanno dimenticato quello che forse è quello più bello è il talismano e il talismano racconta una storia del tutto inventata sull'amicizia che nasce fra Riccardo Cordileone che durante durante la crociata si ammala e il Saladino che viene a sapere che questo suo avversario tenace valoroso è ammalato il Saladino naturalmente è un musulmano è un musulmano dotto è un musulmano saggio com'è che nell'immaginario europeo ci si immagina il musulmano dotto come qualcuno che è quasi un mago certamente sa di medicina ma una medicina tinta di magia il talismano è appunto il gioiello magico con cui il Saladino cura e naturalmente salva la vita di Riccardo Cordileone tutto è assolutamente inventato però se voi pensate che ancora oggi in tutti gli eserciti arabo-musulmani c'è almeno una divisione o una brigata che è intitolata il Saladino che ci sono riviste che sono intitolate il Saladino monumenti in tutto il mondo arabo anche se Saladino personalmente non era un arabo era un curdo quindi era un iranico semmai ci sono opere moderne magari non scritte da scienziati da studiosi ma scritte magari da romanzieri di successo eccetera che parlano ancora di questo personaggio voi capite come questa storia in realtà anche la storia fra cristiani e musulmani o fra europei e musulmani è una storia estremamente complessa e contraddittoria ma cambiamo pagina nel Medioevo la massima istituzione spirituale è l'istituzione cavalleresca sarà vero o non vero storicamente non importa è sentita così pensiamo all'altro grande momento insieme al Medioevo o al Rinascimento che noi abbiamo attraversato storicamente l'illuminismo in pieno illuminismo ci sono delle virtù che sono che primeggiano sulle altre la ragione per esempio la natura una delle virtù fondamentali è la virtù della tolleranza beh la tolleranza è uno degli elementi base su cui si fonda anche così il nostro immaginario morale poi magari non riusciamo a attuarla nella pratica però la riconosciamo come un alto valore bene un illuminista tedesco Gottold Ephraim Lessing scrive in pieno XVIII secolo un'opera Nathan der Weisse Nathan il saggio che è una ritrascrizione per il teatro settecentesco tedesco di una novella del boccaccio che è la novella del giudeo Melchizedek una novella il cui protagonista è il Saladino e è la famosa novella delle tre anella il re che muore morendo consegna ai tre figli tre anelli perfettamente uguali però separatamente avverte ciascun figlio attento io a te ho dato l'anella autentico e agli altri ho dato delle copie preziose tutto quello che vuoi ma sono solo copie però tu non devi rivelare tutto questo e allora l'apologo la morale dell'apologo è ovvia ci sono tre fedi religiose l'islam il cristianesimo e l'ebraismo ognuno dei fedeli a ciascuna di queste fedi deve pensarla come se fosse l'autentica però lasciando aperto la porta alla possibilità che l'autentica sia l'altra perché nessuno sa a chi Dio ha dato sul serio la vera fede e le altre due ci somigliano ma potrebbero non essere la loro e allora ognuno viva come se avesse la vera fede nel proprio cuore ma nello stesso tempo rispetti le altre perché potrebbero essere loro la vera fede ciascuna di loro potrebbe essere la vera fede e questa è la base della tolleranza l'eroe illuministico della tolleranza grazie a Lessing che ha riletto Boccaccio ancora una volta il Saladino naturalmente a questo punto tiro le fila perché ho preso fin troppo tempo facciamo una rapida carrellata su quello che c'è dopo innocenzo terzo dopo la terza crociata la crociata cambia aspetto questo grande papa grande giurista vede che le crociate sono andate tutte male e nello stesso tempo capisce che quest'idea di crociata che sta andando male in Oriente deve essere utilizzata altrove perché il mondo europeo è diventato estremamente complicato intanto ci sono anche i musulmani in Spagna e infatti anche in Spagna si fanno le crociate la grande vittoria di Las Navas de Tolosa papa innocenzo terzo è un grande organizzatore di crociate cerca di organizzarne una per riprendere Gerusalemme e fallisce perché i crociati si fermano a Costantinopoli e addirittura conquistano Costantinopoli e Costantinopoli è una città cristiana e questo crea imbarazzo crea problemi crea interrogativi però il papa va avanti nel frattempo la crociata invece in Spagna va bene ci sono delle vittorie però nel frattempo è scoppiato un altro ecco la conquista di Costantinopoli come vedete attraverso un mosaico Ravennate nel frattempo è successo che in Europa non si è più tranquilli in Europa sta nascendo una specie di contagio spirituale attraverso una grande eresia l'eresia catara che si sta mangiando ecco fermiamoci su Francesco su cui dirò due cosine brevi i catari si stanno mangiando la chiesa bisogna in qualche modo fermarli la propaganda religiosa non basta i catari sono più abili dei predicatori si inventano nuovi ordini ordini che devono predicare con la parola i domenicani o con l'esempio i francescani per contrastare i catari ma non basta ancora alla fine Innocenzo III perde la pazienza e proclama una crociata contro i catari e questa è una svolta inaudita spaventosa perché è una crociata proclamata contro gente che a sua volta dice di essere cristiana è una crociata che diventa una guerra civile nel frattempo le crociate erano servite anche per esempio per cristianizzare il nord-est dell'Europa famoso ordine teutonico via discorrendo che era un ordine religioso esso stesso nel nord-est dell'Europa non c'erano musulmani ma nel frattempo la crociata perdendo di vista la riconquista di Gerusalemme che diventava un obiettivo sempre più difficile si espande in altre direzioni diventa l'affermazione del cristianesimo contro i pagani ed ecco allora che i crociati possono andare a fare una guerra contro i finni contro gli slavi contro i prussiani contro i polacchi e cristianizzarli e ampliare l'Europa cristiana una guerra contro gli eretici addirittura durante il 200 si arriverà a fare guerre contro cristiani che non erano nemmeno eretici ma erano semplicemente avversari della santa sede contro i potenti chibellini d'Italia per esempio contro Federico secondo imperatore contro Ezzelino del Romano signore di Verona il quale non era certo un musulmano era un uomo che si diceva fosse impio ateo preda di satana tutto quello che volete ma non era un musulmano e anche contro di lui si mandano dei soldati che prendono l'indulgenza l'indulgenza crociata come se andassero a conquistare Gerusalemme e invece vanno a stanare un signore ghibellino da Verona queste sono le contraddizioni della crociata crociata che tocca anche l'Islam ma che lo tocca in una maniera che ormai è tangenziale rispetto a quello che si sarebbe voluto fare alla presa di Gerusalemme voi avete lì un affresco di giotto nella basilica di Assisi la prova del fuoco di San Francesco davanti al sultano non è mai avvenuta è un episodio forse leggendario ma non importa il sultano e il San Francesco è molto probabile che si siano incontrati durante la cosiddetta quinta crociata che è stata combattuta fra il 19 e il 21 ma non sotto Gerusalemme ma in Egitto e cosa ci facevano i crociati in Egitto seguivano un principio tattico strategico siccome il sultano d'Egitto era molto ricco grazie ai porti che lui aveva sul delta del Nilo soprattutto Alessandria e Damietta e quelli erano le basi per la prosperità del sultanato gli europei ragionano in un modo tattico strategicamente parlando plausibile prendiamo occupiamo questi porti e costringiamo poi il sultano a restituirsi Gerusalemme in cambio della liberazione dal blocco economico che noi gli abbiamo messo occupando questi porti come vedete c'è qualche cosa che può sembrare addirittura di attualissima realtà ecco si parla di un blocco di un blocco economico da dare al nemico e noi siamo in un tempo in cui come sapete dal Venezuela fino all'Iran i blocchi economici vanno di gran moda in questo caso l'idea di costringere l'Islam impoverendolo e bloccando i commerci di cui lui è padrone e per obbligare a restituire Gerusalemme ai cristiani è un'idea che è andata avanti molto a lungo lo hanno avuto all'inizio i capi della quinta crociata ma in pieno seicento voi sapete forse se non altro lo sapete indirettamente attraverso un'opera di Leonardo Shasha intitolata il consiglio d'Egitto sapete che un noto studioso Leibniz ha scritto un consiglio d'Egitto dedicato a Luigi XIV di Francia in cui ripropone la stessa cosa che era affiorata nel primo duecento se si vuole conquistare Gerusalemme e strapparla al sultano che in quel momento era diventato il sultano di Istanbul assediamo l'Egitto e costringiamo poi il sultano a uno scambio non è mai successo però l'opera c'è stata più volte pubblicata eccetera crociate successive la crociata di Luigi XIV diventa addirittura santo una la perde viene preso prigioniero dai musulmani e deve pagare poi un riscatto enorme nel 52 un'altra nel 1270 non ci arriva nemmeno a Gerusalemme perché muore sulla costa di Tunisi probabilmente viene colto dal tifo e muore dopodiché le crociate praticamente non si fanno più contro i musulmani ma si continuano a fare in Spagna si continuano a fare nel nord-est europeo si continuano a fare crociate politiche contro i capi di Bellini in Italia finché non succede qualcosa del tutto nuovo l'arrivo dei turchi di un'altra etnia dei turchi cosiddetti ottomani nel Mediterraneo la presa di questa è la presa di Acre del 1291 che segna la fine delle crociate classiche le crociate del periodo che noi impariamo a scuola le crociate del XII-XIII secolo poi però arrivano gli ottomani e gli ottomani conquistano Costantinopoli e allora no torniamo alla precedente e allora i papi del 400 si fanno portatori della grande paura che gli europei si prendono quando i turchi hanno preso Costantinopoli e si sono mangiati l'impero bizantino e si teme che arrivino in Europa e ci avrebbero anche potuto arrivare ma allora bisogna in qualche modo costringere la cristianità a creare un antemurale nei confronti di questo nuovo Islam che non vuole convertirli nessun sultano ottomano ha mai pensato di convertire gli europei pensato di conquistare parte dell'Europa forse sì e allora naturalmente gli europei si sono uniti ma come due ore fa cominciando questo discorso troppo lungo io ho detto il re di Francia litigava con il re di Spagna uno cercava di conquistarsi il benvolere del sultano l'altro si rivolgeva all'amicizia con lo Shah di Persia tutto il periodo fra il 400 e il 700 è dominato ancora una volta dalla crociata anche se non si chiama più così si chiama magari Santa Impresa genericamente però si mantiene la legislazione sulla crociata si mantengono le indulgenze e così via e qual è lo scopo? lo scopo è la difesa dell'Europa che può arrivare fino alla riconquista di Costantinopoli che non c'è mai stata ma perlomeno non contro gli ottomani poi Costantinopoli il sultano cadrà ma cadrà soltanto dopo la prima guerra mondiale ma la nuova crociata quella che interessa appunto Pio II che è il suo grande propagatore nel quindicesimo secolo che interesserà più tardi il tasso che più tardi ancora interesserà tutta l'Europa quando i turchi arriveranno a due riprese nel 1529 nel 1683 arriveranno sotto Vienna e allora gli europei temono sul serio ecco la battaglia di Lepanto che è un episodio di una guerra in realtà fra la Repubblica di Venezia e il sultano gli europei temono sul serio che se il sultano prende Vienna poi dilagherà per tutta Europa non è vero non è così Vienna viene assadiata e viene liberata dalle truppe polacche prima tedesche austro-tedesche poi nel 1683 nel 1683 come sapete in Francia domina regna il re Sole che è un grande alleato del sultano il re Sole finge di essere contento a sua volta del fatto che i cristiani hanno liberato Vienna da un assedio che avrebbe potuto preludere alla conquista di Vienna stessa in realtà non è affatto contento quello che interessava al re Sole non era naturalmente che il sultano prendesse Vienna era semplicemente che l'imperatore romano germanico fosse occupato il più possibile a este contro i turchi perché siccome il re Sole aveva ambizioni nei confronti della Germania occidentale in particolar modo della linea del Reno dell'Alsazia la capitale dell'Alsazia viene presa nel 1681 e l'assedio di Vienna è del 1683 quindi mentre i turchi dilagano nei Balcani e arrivano fino sotto Vienna i francesi d'altra parte stavano avanzando verso il Reno e Strasburgo la capitale dell'Alsazia appunto viene presa nel 1681 e quindi la crociata per cui Luigi XIV spende in una quantità infinita di soldi dal punto di vista della propaganda sotto Luigi XIV non si faceva che stampare e scrivere libri sulla crociata perché? perché Luigi XIV voleva prevenire le critiche di chi lo accusava di essere un alleato del turco sottolineando che le crociate quelle storiche sono state parte dell'epopea nazionale della Francia San Luigi Luigi IX il grande eroe della Francia medievale Santa Giovanna d'Arco la quale parlava del fatto che dopo aver cacciato dalla Francia gli inglesi i francesi avrebbero dovuto partire per la crociata contro i turchi poi non hanno fatto di niente e tutto questo naturalmente finisce soltanto nel corso del Settecento quando si arriva a una morte lenta della crociata che è parallela al mutamento di posizioni che si hanno nei confronti del mondo turco il mondo turco cessa di essere un mondo pauroso di nemici e diventa un mondo quasi simpatico un mondo che si può perfino prendere in giro pensate al ratto dal serraglio di Mozart pensate all'italiana in Algeria al turco in Italia a tutte le fiurcherie la mania di costruire arredi opere d'arte eccetera che somigliassero in qualche modo alle cose che venivano dalla Turchia la moda praticamente il successivo snodo della crociata si dovrebbe parlarne ma non c'è più tempo è qualificato da questo signore che è René de Chateaubriand che ha fatto due cose uno un discorso molto importante al Parlamento di Francese nel 1830 quando esorta i francesi a conquistare Tunisi per troncarla una volta per tutte col fenomeno dei corsari barbareschi che infestavano ancora il Mediterraneo e che erano dei musulmani e che mettevano in pericolo anche le navi dei passeggeri cristiani eccetera e li riducevano le schiavitù eccetera questa idea di René de Chateaubriand monarchico anti-Giacobino eccetera è l'idea di una nuova crociata contro il pericolo musulmano che ancora si annida nel Mediterraneo ma nello stesso tempo ecco le due facce del problema Chateaubriand è anche un sostenitore di una crociata interna della crociata contro il mondo giacobino che poi era diventato il pericolo liberale la crociata per esempio in favore o in ricordo in memoria degli insorti vandeani del periodo della rivoluzione francese che prende il nome di crociata perché si stabilisce un'analogia fra i crociati medievali che lottano contro l'Islam e i moderni crociati che lottano invece contro l'ateismo questo elemento sarà vitale nel mondo dell'Ottocento prenderà occuperà le guerre carliste in Spagna ancora prima la guerra della liberazione in Spagna contro Napoleone combattuta in nome della crociata gli zuavi che vanno a Roma nel 1870 per difendere la Santa Sede contro l'assalto degli italiani sono in generale nobiluomini francesi che vengono benedetti dai prelati francesi perché stanno partecipando a una nuova crociata nel tempo stesso la crociata in età romantica torna di moda come elemento storico e allora abbiamo manifestazioni importanti dal punto di vista artistico come i Lombardi alla prima crociata i Lombardi alla prima crociata sono un'opera in qualche modo patriottica i Verdi sono l'opera che in qualche modo fa da Pandà a Nabucco sono le due opere attraverso le quali Verdi parla del sentimento patriottico degli italiani però è interessante che prenda questo momento questo periodo considerato un periodo in cui la guerra diventa qualcosa di spirituale e parli appunto della crociata ovviamente con queste basi e termino e con queste basi si capisce anche come una volta ristabilito su tutt'altre fondi su tutt'altre basi un momento di attrito di frizione che riguarda il rapporto fra gli europei e il mondo musulmano o una parte del mondo musulmano riemergono anche le crociate ma è una fiamma per così dire che non si è mai spenta vedete il colonnello Lorenz il colonnello Lorenz che nel 1916 faceva parte dell'Arab Bureau del Foreign Office quindi era quel gruppo di militari che stando al Cairo pianificavano la guerra contro i turchi che erano alleati dei tedeschi siamo nel 1916 il colonnello Lorenz archeologo arabista che parlava fluentemente l'arabo eccetera riesce a organizzare la guerra dei beduini arabi contro i turchi e non è una cosa da poco perché beduini arabi e turchi sono tutti e due musulmani il sultano turco e addirittura anche il califfo in quanto sultano però l'intelligence inglese riesce a conquistare la fiducia di alcune tribù arabe promettendo in cambio qualche cosa che sua maestà britannica sa di non potere e di non voler dare cioè consentire agli arabi all'indomani della guerra di creare un loro regno autonomo libero cosa che non succede e Lorenz parla anche di questo che ai suoi occhi era un tradimento perché lui aveva creduto sinceramente in questo elemento in questa questo ideale ed è la sostanza del suo capolavoro che tutti conoscono e molti hanno anche letto cioè i sette pilastri e la saggezza da notare che nel 1916 effettivamente gli inglesi insieme agli arabi entrano a Gerusalemme conquistata strappandola ai turchi e il comandante in capo delle truppe inglesi il generale Allenby si lascia scappare che con col ritorno degli inglesi a Gerusalemme era come se fosse tornato a Gerusalemme Riccardo Cordileone però c'è il problema che insieme a Gerusalemme insieme alle truppe inglesi avevano combattuto con gli inglesi anche le tribù beduine arabe che non gradiscono assolutamente questo fatto che il loro sforzo sia stato assimilato a quello di Riccardo Cordileone che ancora oggi è una specie di babau nel mondo arabo quando i bambini non vogliono dormire le donne palestinesi li cantano loro le nenie le filastrocche sul fatto che se non sono buoni viene il re Riccardo e li mangia quindi figuratevi cosa significava per gente abituata a questa serie di valori che del resto era anche comprensibile sentirsi dire che loro avevano permesso il ritorno di Riccardo Cordileone a Gerusalemme un'ultima curiosità l'ultimo sprazzo della crociata ce ne sono stati tre di momenti crociati nel mondo europeo del ventesimo secolo una è la cosiddetta cristiada la lotta dei cristeros e dei guerriglieri cattolici contro il governo laicista messicano nel 1926 29 fu una guerra che durò tre anni una guerra civile ferocissima da entrambi le parti in cui l'armata cattolica si chiamava ufficialmente non crociata ma cristiada l'armata cristiana voi avete un esempio in questo fotogramma poi sapete che durante la guerra civile spagnola da parte nazionale ci fu ancora una volta un uso politico evidentemente della crociata e anche durante la campagna di Russia i volontari non tanto tedeschi e nemmeno italiani quanto soprattutto i volontari da certi paesi come l'Ungheria o come la Romania che parteciparono come volontari alla guerra contro l'Unione Sovietica per il fatto dell'Unione Sovietica era evidentemente uno stato ufficialmente laico chiamarono crociata il loro impegno e su questo sono state scritte biblioteche intere per cui se la balena bianca si è poi rinabissata nel 45 ed è riemersa in relazione all'11 settembre non bisogna stupirsi perché appena le condizioni si sono apparentemente verificate del tipo che ha reso possibile di nuovo un uso magari demagogico magari storicamente inopportuno eccetera un uso propagandistico della crociata la crociata si è immediatamente è immediatamente ritornata a galla oggi negli Stati Uniti d'America ancora oggi anzi con l'amministrazione Trump c'è stato un revival siamo pieni di giornali associazioni eccetera che parlano della necessità di una crociata contro il mondo islamico che dovrebbe risolvere una volta per tutte alcuni problemi politici in atto quindi come vedete è una storia di malintesi è una storia di mistificazioni è una storia di continui ritorni su alcuni leitmotif della storia europea che vengono continuamente reinterpretate è una storia veramente di un passato che non passa però tutte le volte che si ripresenta si presenta sempre con un volto diverso da come si è presentato nelle volte precedenti questa è solo una parte minima di quello che avrei voluto dirvi perché come si usa dire in questi casi ho parlato molto ma ho detto poco grazie grazie mille professor Cardini per questo meraviglioso e vertiginoso percorso attraverso una storia che davvero non finisce grazie a Ilaria Menolascina per l'organizzazione della serata e grazie a tutti buonasera grazie a tutti 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 grazie a tutti